ciao ragazzi destini marte andiamo subito a morire ragazzi ragazzi questo è la mia navetta allora ragazzi vediamo un attimo io non mi ricordo più nulla che posizione ma sì perché sono guardiano io ed eris stiamo dando il via alle operazioni degli occulti presso la culla dove sei? siamo in una sorta di campo coltivato ciò che vedete è una finestra sull'età dell'oro marte è tornato con delle instabilità temporali e la presenza di savathun non è una coincidenza riteniamo che la ricomparsa di marte l'abbia spinta a uscire allo scoperto e stando ai rapporti potrebbe essere indebolita la flotta cabal sta bloccando la rotta verso la sua nave devi trovare un modo di arrivare lì e rintracciare savathun forse è una buona possibilità di colpire figo lo avete visto ragazzi è tipo una bolla di qualcosa poter fare cibo cibo cibino destini è sempre destini eccoli 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 Sì Bocca no Ah, qui go forse devo metterlo dentro qua penso che è attivato il lanciatore raga stanno preparando un cannone gigante ho un'idea entra e trovami una console non c'è un cannone gigante ragazzi che mi ha sparato ha usato spararmi da dietro allora si vediamo come funziona questo cagnone è vero che ho sentito dire che Sabaton si è nascosta grazie alla regina insomma Mara Soul allora perché si fa rivedere così presto sembra troppo avventato per una dea dell'astizia porca loca ah eccolo qua lato è vero che guarda Vai, vai, vai Oh, è scalao Oh What oh la sintetà fermo ero muerto ci siamo ci servono carburante energia e proiettili ovviamente per i proiettili guardo te so cosa pensi ma fidati funzionerà i miei piani funzionano sempre cominciamo attivando le linee di rifornimento ah ah e adesso si passano le ore su destino la nave la nave dove vado dove vado questa marina un forza allora caspita raga caspita raga oh 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 ancora una la nave via porca or oh 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 Nooo, su mort puoi pukando opatula Linee di rifornimento aperto E' un 3 e P2 Dai, su muro E' un 3 e P2 Dai, su muro E' un bar di qua Oh, non è l'offa Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti